Siamo a Carpanzano, alla dodicesima sagra della Castagna. Qui in questo momento stanno suonando le orme e abbiamo fermato Antonio Simarco che fa parte di Carpanzano. Tutte le persone hanno detto benvenuti a Carpanzano, ci ha bloccato, ci ha detto così. Cosa fai nella vita? In realtà io sono assessore alla cultura e alla pubblicizzazione del paese che è qui vicino, il Rogliano, il paese ambito su cui gravitano un po' tutti questi paesini piccolini. Ma è come se Carpanzano fosse anche il mio paese a tal punto che ognuno che incontro io dico benvenuti a Carpanzano. Quindi come assessore chiediamo alla persona più adatta l'importanza di valorizzare il territorio con iniziative come questa. Di fatti questo è un momento, io dico, alto perché noi dobbiamo partire da questo. Questi piccoli paesini hanno la possibilità di farsi conoscere proprio attraverso questi momenti che sono veramente di spessore perché ci riportano indietro nel tempo, ci fanno assaporare il gusto della memoria storica, della tradizione e anche dell'aspetto enogastronomico. Tra l'altro abbiamo visto oggi come si lavorava un tempo la castagna, ci sono state le scuole, proprio di Rogliano tra l'altro, e abbiamo potuto apprezzare l'esperienza di tre persone anziane che ci hanno raccontato non solo la storia ma di come si viveva con la castagna e che la castagna ha fatto crescere il territorio e di come sia importante riprendere la lavorazione della castagna per valorizzare di nuovo magari Carpanzano e le zone limitrope. Io parto sempre da un concetto che per un buon futuro bisogna avere la consapevolezza del passato, ritornare indietro e capire veramente quello che hanno fatto gli altri e dare rilievo soprattutto alla materia prima che abbiamo. E noi dobbiamo ripartire proprio da questo. Carpanzano appunto per anni ci sta dando la possibilità di entrare in un mondo che insomma ci riporta nella civiltà contadina da dove veniamo, no? Certo. Non altro si sono meravigliati di come venivano lavorate, di come uscivano già pulite, loro immaginavano forse che la castagna arrivasse già sulle loro tavole ma non sanno quello che c'è dietro e soprattutto quello che è stato il sacrificio dei loro nonni magari nel affrontare dei periodi di crisi perché ci hanno raccontato che magari rimanevano ore e ore nei boschi per fare poche centinaia di chili di castagne. Bisogna appunto fargli esperire certe cose, io mi occupo anche di scuola perché insegno anche in alcune scuole e ci sono dei ragazzi che addirittura non hanno mai avuto la possibilità di vedere un pollaio e una gallina, quindi immaginate un po' dove siamo, parlo di città ovviamente. Per cui queste attività che sono le attività sulle quali siamo vissuti e il nostro passato che ci trasmette al futuro sono importanti perché ci fanno capire effettivamente su che cosa dobbiamo lavorare. Grazie a tutti.